Salve a tutti amici dei Transformers da Just Luca di Outrobo.it e benvenuti a non una semplice nuova video recensione magari di giocattoli ma alla video recensione del film dei Transformers appena uscito nel cinema ovvero Transformers Il Risveglio, Transformers Rise of the Beast in originale. Il film tanto atteso da noi fan dei Transformers dato che non solo appunto era il seguito, il film successivo dopo Transformers Bumblebee, lo spin-off che doveva essere uno spin-off prequel della pentalogia di Bay e che ebbe un discreto successo di critica anche a livello, ma anche fra noi fan per il discorso di aver riportato un po' un tocco, un pizzico di G1, Generation 1 la prima, diciamo la Generation 1 sarebbero praticamente i Transformers la prima generazione di Transformers degli anni Ottanta lo stile di questi Transformers al cinema dopo appunto i famigerati Bayformer questo appunto, questo seguito, questo, diciamo, sì, questo sequel di Bumblebee era appunto ispirato anche perché era stato posticipato di un anno per tot motivi, va a sapere, non si è capito quali forse, ma lì, semplicemente per farlo uscire in un periodo forse più propizio a livello di uscita appunto cinematografica, ma eccoci qua e facendo anche non poca confusione a livello di uscita della linea di giocattoli appunto eponima ma finalmente appunto è uscito ieri, 7 giugno, da noi diciamo una sorta di anteprima mondiale generale dato che in America uscirà questo weekend da domani lo 9, 9 giugno e quindi a parte le premiere che ci sono state appunto in giro per il mondo ma, dicevo, finalmente questo film è uscito comunque sapevamo già cosa ci poteva, cosa ci presentava ovvero non solo il ritorno di Optimus Prime, di Bumblebee ed alcuni Autobot classici un po' rimaneggiati ma soprattutto l'introduzione dei Maximal, delle Beast Wars Maximal erano appunto nella finzione narrativa quando li hanno presentati nel 1996 erano praticamente gli eredi degli Autobot in un futuro neanche troppo lontano dove appunto questi robot tornavano poi tra l'altro indietro nel tempo e li ambientavano le loro storie nella nostra terra primitiva ma comunque, dicevo, questo film era abbastanza atteso proprio perché un film di Transformers da noi in Italia da noi scusate, l'Italia l'ho buttato lì per sbaglio mi è scivolato da noi fan insomma in generale e ovviamente c'era questo discorso di di chiedersi ma sarà bello, ma ne varrà la pena sarà un ritorno ai film di Bay, di Michael Bay che tanto hanno avuto successo di pubblico però alla fine a livello diciamo di critica ma anche proprio di ciccia di cosa portavano neanche troppo successo diciamo o si spera sarà un proseguimento di quello visto in Bumblebee ovvero trame un po' più asciutte personaggi ben definiti diciamo che è un po' una via di mezzo intanto un commento ovviamente spoiler free senza spoiler in grandi linee però dopo ci buttiamo dentro a palla in qualche spoiler adesso non so neanche se riuscirò a toccare tutti i punti magari farò un altro approfondimento più specifico sui personaggi vediamo quanto ci metto a parlarne ma appunto dicevo inizialmente in generale il film ripeto è quello che un po' si intuiva anche nei trailer ovvero innanzitutto non è un film di Michael Bay quindi non c'è tutto quel chiasso quelle esplosioni quell'umorismo becero e tutto quelle le trame troppo troppo complicate anche se un po' si e no sulle trame vabbè dopo ci torniamo nella parte spoiler ma appunto alla fine e comunque i protagonisti umani abbiamo visto sono effettivamente solo due soprattutto il tipo il maschio il ragazzo Noah soprattutto lui c'è ovviamente il suo punto di vista di protagonista ma c'è spazio parecchio anche per i Transformers anche lì però non tantissimo come avremmo voluto per certi versi però abbastanza alcuni sono davvero ben caratterizzati e ben ben esposti insomma hanno la loro dicono la loro giustamente rispetto ripeto a quanto si era visto invece nei film di Michael Bay dove erano praticamente facevano solo parte della sceneggiatura mentre invece nel film di Bumblebee era tutto per fortuna se riusciva lo stesso la storia era molto semplice però era ben ben diretta con protagonista l'umana lì la Charlie ma quindi dicevo questo film alla fine diciamo senza dire troppo sulla trama e tutto poi adesso ne parliamo di trama spoilerata e varie giustamente quindi chi vuole fermarsi tra un po' si fermerà ma ritorno in seguito a vedere il proseguimento di questo video mio vale la pena andare a vedere questo film se sei un fan di Transformers anche sì perché comunque è un film sui Transformers i Transformers ci sono ci sono qualche c'è qualche dimando ai classici Transformers all'universo di Transformers in generale insomma a certi classicismi insomma dei Transformers la trama ripeto non è male in generale tutto il film dura quelle due orette non sono quelle due orette 20 euro e mezza di roba che è un po' troppo pesante ripeto ma alla fine va via presto come 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 durata come non è che forse si impalla leggermente un pochino sempre quando si si vanno a a toccare i temi di 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 motivazione di protagonisti umani però anche lì diciamo non sono troppo pesanti neanche quelli quindi ripeto e comunque c'è parecchio anche a riguardo alle motivazioni al alle alle caratterizzazioni dei robot la trama comunque al fine è un film dicevo comunque un film anche abbastanza per il pubblico diciamo generalista si fa vedere un film di fantascienza con i suoi combattimenti le esplosioni ci sono per carità la fantascienza le scene insomma apocalittiche anche la finita solvers che comunque ci stanno ormai ci sono quindi diciamo è un buon film non è non è un chissà quale capolavoro ripeto stiamo parlando di un film basato su una linea di giocattoli che serve a vendere i giocattoli anche se lì poi ci torniamo anche sul discorso ma comunque dicevo alla fine si fa vedere un film onesto tranquillo non è troppo carico troppo bolso troppo pesante troppo troppo come erano i film di Michael Bay non è neanche troppo leggerino diciamo a livello di trama come film di Bumblebee per carità poi sulla tecnica registica e altro per carità non sono afferratissimo però alla fine si è fatto guardare abbastanza bene per carità non sono un super esperto di film quindi non posso andare a parlare di campi contro campi e robe così però dicevo alla fine magari non qualche scena confusa di combattimento c'è quella sì però alla fine sì ripeto per essere un film di Transformers è tranquillo ben ben fatto niente male soltanto discorso di sì è un film tranquillo non è praticamente come dire oddio ho perso il filo cosa stavo dicendo come film alla fine si fa vedere ripeto senza troppi magari ripeto anzi eppure troppo generalista un po' troppo dato che certi punti che dovrebbe toccare tutte le tutte le varie come si può dire le speculazioni che si erano fatte a monte a guardare la citazione di perché quello c'ha la testa così per quello c'ha l'occhio cosa non serve neanche farsi tutte queste domande perché alla fine non vengono date tali risposte dei film quindi è molto tranquillo molto commerciale in questo livello ripeto la trama è abbastanza non neanche troppo malvagissima ovviamente ci sono un po' di un po' di come si può dire di forzature ecco che poi adesso andiamo a parlarne un attimo a livello di per far andare le cose in certa maniera magari magari ovviamente uno pensa no ma in realtà non avrebbe senso che facessi quella cosa invece quell'altra ma vabbè è un film di fantascienza ok bisogna fare andare avanti la trama e quindi ripeto per essere un film di Transformers un film estivo di fantascienza basato a serie di giocattoli non è male magari magari sarà più che altro come impressione mia poi per carità magari sarà poi come rispetto ai film di Michael Bay a rivederlo ce lo si godrà anche un po' meglio per carità perché di mio avevo anche un po' troppo l'occhio critico di guardare ma succede questa cosa che mi succede quando vado a vedere film basati su fumetti cartoni animati linee giocate appunto cerco di andare a coi e vedere se trovo l'eccitazione piuttosto che non godermi il film stesso magari quindi una seconda visione altre successive visioni sarà più scorrevole lo stesso cioè non ti verrà quella nausea invece a guardare i film di Michael Bay che onestamente quando le riguardi davvero mi stonaco totalmente tanto sono tronfi le pari magari la prima volta al cinema vieni bombardato da tutte queste espressioni trame casini situazioni resti anche un po' diciamo inebettito poi però a riguardare i film di Michael Bay davvero sono pesantissimi sono dei mattoni mentre magari questo qui invece va via bene quindi ma una seconda visione sarà anche lo stesso più godibile come è stato quel film di Bumblebee che l'ho visto fatta l'età proprio neanche la settimana fa per infrescarmi le memorie quindi diciamo in quel senso lì è un film decente sempre basato su film di una linea di giocattoli ok dopo questa intro non spoiler parliamo quindi spoiler spoiler ok spoiler 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 spoilerone spoiler ok ora possiamo parlare della trama in generale mi sa che tutto il discorso personaggi lo lascerò in un successivo video sono davvero qua tocco faccio un'ora di video e basta ma praticamente ora parliamo della trama in sé e parliamo un pochino del film per chi ha già visto il film discutiamo certi certi tutti i passaggi della trama poi andrò magari magari accendo qualche personaggio gioco forza poi però andrò a parlare più specifico mi sa che lo faccio un secondo video sì di tutti i personaggi quindi innanzitutto parliamo appunto dell'intro l'intro è la trama vede appunto Unicron un intro che riecheggia anche il film del 1986 il film originale dell'animazione del 1986 che vede appunto Unicron come super mega antagonista siamo già appunto buttati anche lì con questo pianeta gigante che inizia a divorare questo pianeta che si vedeva nel trailer che poi era appunto un pianeta diciamo generico non la terra inizia a divorare questo pianeta manda i suoi aralli ovvero Scourge tra cui Scourge ovviamente se non ricordo male si vede solo Scourge e appunto abbiamo il pianeta è il pianeta di Maximal si Eipling si sacrifica che è diciamo quello che pare essere il capo di Maximal superiore di Optimus Primal a cui cede il comando fa scappare i Maximal e portando in salvo la chiave della Transwarp Key che qui viene chiamata chiave di oddio oddio non mi ricordo neanche più come si chiama la chiave di la chiave ecco in un originale era Transwarp Key quindi la chiave di non me la ricordo più vabbè la chiave e insomma scappa con l'artefatto McGuffin scappa via fa non scappare via viazzano per lo spazio-tempo arrivano sulla Terra non si sa quando ma pare da migliaia di anni e quindi si parte poi ovviamente con l'introduzione dei due personaggi dei due protagonisti terrestri insomma ragazzo con più con più riguardo diciamo verso Noah che non verso Elena diciamo l'introduzione della storia dei loro personaggi è tutto Noah finisce intanto che Elena trova un artefatto che cita che è praticamente una statuetta di Arrezor praticamente nel momento in cui anche Elena la sua parte diciamo della trama quindi non è che sono dei pupolotti li messi lì dato che sono loro che innescano anzi è proprio Elena Fatalità che innesca il tutto questo casino in effetti se ci pigi perché è stata lei a distruggere l'artefatto di Arrezor facendo facendo innescare la metà di chiave praticamente insomma appunto Elena involontariamente lancia questo segnale visibile solo dagli Autobot dai Sabertroniani carina questa cosa che si vede sto lampo qui che pare che dovrebbero vederlo tutto invece è un segnale che vedono solo i Sabertroniani intanto c'è Noah abbiamo visto che cerca di rubare un'auto Fatalità è Mirage questo è il Mirage classico e praticamente c'è tutto l'inseguimento che si vede nel 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 trailer scusate insomma praticamente poi Noah viene presentato agli Autobot e abbiamo un Optimus Prime che è un pochino per le sue diciamo però viene data una motivazione noi per fortuna questo non è che semplicemente Optimus è stronzo di suo scusate la parolaccia c'è la puzza sotto il naso di suo ma perché appunto si sente responsabile di aver appunto fatto perdere la casa Cybertron ai suoi Autobot inizia appunto il discorso poi tra l'altro il primo dei vari Ace Movie le parti da Ace Movie perché diciamo si sapeva dalle prime info che questo doveva essere cioè avevano impostato questo film come una sorta di Ace Movie e diciamo molto blandamente ci sono appunto ben tre parti alla Ace Movie dove appunto si cerca di fare un furto praticamente gli Ace Movie sono i film di rapina molto alla buona ma comunque serve a dare un senso al fatto che ci siano che ci siano appunto gli umani che danno una mano agli Autobot in questo caso Noah si introduce nel museo e alla fine abbiamo comunque scusate viene introdotto Mirage come personaggio amico degli umani e effettivamente ha un bel ruolo è simpatico poteva anche essere un otto rodo diciamo personaggio giovanile un po' testa calda degli Autobot con lo slang che parla poteva anche essere jazz diciamo però hanno preso Mirage perché sta bene l'autosportiva comunque l'hanno preso quello proprio sputtato al G1 come caratteristiche a livello di caratterizzazioni però c'è il discorso di poter fare gli ologrammi come nella vecchia bio originale laddove poi invece nei cartoni matti diventava poteva diventare invisibile quindi c'è una citazione alla bio originale intravissa anche nei fumetti alla buona Bumblebee poi non c'è qua Bumblebee viene relegato un po' c'è ma viene poi relegato dopo durante la battaglia alla nel museo viene appunto ferito a morte e anche qui giusto per aumentare il senso di colpa di Optimus Prime e intanto viene messo da parte Bumblebee che comunque non è un una brutta mossa questa qui di mettere da parte Bumblebee che comunque appunto a parlare così anche Optimus Prime glielo dice proprio gli fa una frecciatina gli dice siamo stanchi di sentirti parlare in questa maniera qua onestamente è vero anche noi che sono dal 2007 che va avanti in questa storia e quindi praticamente tra l'altro anche Arsi è abbastanza ben caratterizzata niente da dire anche si fa un po' ridere poi un attimo il discorso a livello di trama il fatto che hanno bisogno degli umani Arsi è poco più alta di un umano onestamente c'ha anche lei che fa l'ologramma del pilota volendo Mirage a un certo punto si trasforma riesce a camuffarsi in una betoniera e andando verso la fine in qualche maniera riesce a impicciolirsi ovviamente stiamo già parlando dalla parte spoiler quindi avrete già visto il film ripeto impicciolirsi e diventare un'armatura per Toa quindi tutto suo bisogno di umani onestamente volendo non è che ci sia tanto perché alla fine in qualche maniera col mass shifting o quel cavolo che è potevano spacciarsi per umani l'ologramma insomma diciamo che è un po' forzata questa cosa ammettiamolo però ha più senso più che altro piuttosto che il fatto di usare Noa per fare il furto lì ha più senso il fatto che Elena la tipa sia esperta di geroglifici e tutto e quindi riesca a dare una mano a trovare i maximal la seconda parte della chiave tra l'altro poi appare iRazor inizialmente appare iRazor che pare separata dagli altri maximal che aveva una sua un suo gruppo che sono morti tutti da come pare quindi erano fuggiti altri maximal e si erano separati sulla terra in qualche maniera e strano che volontariamente se mi fa strano che comunque iRazor in tutti questi anni millenni non si è riuscita a trovare di nuovo in qualche maniera gli altri i altri maximal insomma o comunque un po' di volatile gigante in questa maniera sia stato difficile da notare ma vabbè comunque ne parliamo ancora più meglio eventualmente ma stiamo parlando della trama ripeto poi alla fine ah sì per fortuna stratosphere fa proprio dice due frasi in croce hanno chiamato frank matano questo comico che non conosco tanto abbate pazienza per fare le battute di stratosphere ma alla fine c'è non dice proprio due sono stratosphere basta appunto un'altra frase verso fine film insomma però comunque ripeto ci sono parecchi momenti dove gli transformers gli autobot parlano Optimus con Mirage confronti che ci sono Mirage che comunque è molto kid friendly e molto ripeto è tratteggiato bene in questo senso qua gli autobot finalmente parlano oddio ci sono un po' di frasi fatte a livello di quello che dice anche Optimus Prime come quelle che diceva quasi durante il Bayverse in Michael Bay molto frasi fatte del cavolo però vabbè diciamo alla fine appunto arrivano in Perù c'è un altro i due umani si mimetizzano vediamo se riesco a stare dentro la mezz'ora in questo video dopo ripeto parlerò con calma di tutti i vari personaggi in un secondo video ve lo anticipo alla fine appunto arrivano in Perù i due umani riescono a trovare questa tomba però alla fine non c'è la chiave però scatta l'altro inseguimento in Perù che si vede nel trailer e tra l'altro quanto cacchio di roba ci hanno spoilerato nel trailer porca miseria io alla fine ho smesso di vedere le ultime due settimane i vari spot perché sinceramente davvero scusate la parola sputtanavano tutto il film in momenti anche certi personaggi certe situazioni onestamente sono davvero ok che devi promuovere il film però insomma lasciami qualcosa da vedere al cinema e quindi c'è questo secondo inseguimento cui poi di colpo diciamo arrivano ad incontrare i Maximal Maximal quindi devo dirle sono presentati benino però non si trasformano se non verso la fine del film ed è un po' un peccato se devi promuovere i giocattoli che sono sempre in modalità bestia e tutto c'è parecchio spazio per Optimus Primal così come c'è stato parecchio spazio per il Razor però alla fine Cheetor dice una battuta e basta Rinox neanche quella forse dice forse una battottina e basta anche lui quindi davvero ho sprecato questi Maximal avevo questo timore in teoria dovevano apparire da metà film invece diciamo sono verso due terzi buono abbondante dopo due terzi del film insomma circa per fare un po' insomma questi Maximal alla fine ci sono Optimus Prime almeno parla parecchio dice la sua e tutto tra l'altro questa parentesi ci vuole a livello di di trama cosa cioè sul fatto che dicevo che c'è poco da lambicarsi da capire anzi c'è molto da lambicarsi dato che viene detto poco nulla sul sull'ettroterra di Maximal vengono da si dice che Optimus Prime dice che vengono da un altro pianeta che praticamente hanno colonizzato pianeti per infondere vita e robe così tra l'altro come mai come mai hanno l'aspetto di cimmi di bestie terrestri tra l'altro cioè potevano farli sembrare dei mostri delle bestie alieni o farli mostrare all'inizio con le loro modalità robot che fuggivano in modalità robot e poi non già da bestie quando si vedono appunto nell'intro cioè è la terra del futuro quella lì che è stata che è stata da diciamo divorata da Unicron all'inizio e loro sono fuggiti in Italia del tempo dato che c'è discorso che dicono che la chiave può aprire varchi spazio temporali e appunto iRazor all'inizio spiega dopo l'attacco al museo spiega che vengono dal loro passato e dal loro futuro quindi è una citazione il fatto di Marx e Marx come dicevo all'inizio nei Beast Wars che arrivano dal futuro che torna indietro nel passato ok ma è davvero così anche in quella trama no viene soltanto buttato lì questa citazione non è così e vai a sapere se è davvero anche perché Optimus Prime dice che si ispira Optimus Prime nel film e poi rimane un po' deluso da vedere Optimus Prime che non è che sia che sia un po' troppo un po' gritto come un po' troppo cinico come motivazioni diciamo poi il scontro finale tagliamo un po' corto andiamo verso già lo scontro finale dove alla fine insomma Airazor tra l'altro bisogna dirlo viene contaminata da Scourge diventa posseduta e muore malamente peccato ci sta nel contesto del film però magari potevano buttarla a risuscitare anche lei un po' come è stato per Bumblebee grazie all'Energon Grezzo eccetera o magari dietro le quinte è stata messa anche lei sopra un'anana una piastra di Energon Grezzo e magari è risuscitata anche lei chissà per dire ma appunto questo c'è lo scontro finale creano dal nulla questa questa sorta di piattaforma dove appunto attendono creano il varco per far entrare Unicron Unicron si intravede che sta arrivando sul pianeta nel nostro pianeta ma nel resto del mondo si intravede solo delle nubi eccetera quindi magari qualcosa sul fatto che non si vede Unicron è tutto lo scontro finale un po' caotico va detto un po' caotico nelle scene di battaglia ci sono belle scene ma sono un po' caotiche finalmente si trasformano in Maximal però ripeto non è che si vedano tantissimo combattere abbastanza che se ci sono belle scene c'è una scena carina con Optimus con i due Optimus insomma alla fine pare che muore anche Mirage invece no alla fine si trasforma in Exotuta per Noah quindi Noah è protagonista effettivo con la sua bella Exotuta anche qui un po' spoilerata nei trailer quindi riesce appunto a essere partecipa al combattimento mentre Elena cerca di fare il codice poi alla fine però Optimus sacrifica la chiave per far per rimandare indietro Unicron quindi il suo desiderio di tornare a casa è tutto e quindi viene salvato cercano di scappare viene salvato sia da Noah che da Optimus Primer invece di essere risucchiato dal vortice creato dalla chiusura di questo varco e tutto è bene quel che finisce bene diciamo che appunto alla fine Unicron si lascia si lascia un po' detto non detto che fine ha fatto Unicron morto e sparito chissà tanto comunque ci sono due film in teoria in cantiere da fare e quindi vedremo se Unicron apparirà ci saranno davvero appunto le 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 come si dice ci saranno i prodomi per per quello che potrebbe essere la pentalogia se saranno collegate con il discorso della pentalogia di Michael Bay dove appunto Unicron era nella terra chissà oddio che cavolo scusate cattoturo alla fine effettivamente ovviamente c'è quel richiamo finale ovviamente ultra spoiler ribadiamolo al fatto che c'è quella organizzazione che ha tenuto ad occhio no è tutto io pensavo potrebbe essere settore 7 il settore 7 il settore 7 invece no G.A. Joe e anche qui parte il discorso che ci sarà era stato annunciato fatalità un po' troppo presto dal solito buonaventura lì che ci sarà appunto è in lavorazione un film crossover Transformers G.A. Joe chissà come sarà come verrà fuori è tutto ma questo appunto è il ponte onestamente poi ovviamente Mirage non è morto salta fuori che lui ne ha perso poco prima dei titoli di Coda è tutto ripeto però alla fine effettivamente poi è ovviamente un sequel del film di Bumblebee su questo non ci piove perché alla fine dicono appunto sono sette anni che siamo qui siamo arrivati appunto gli umani sono verso Bumblebee Optimus gli dice gli umani sono tu hai fatto hai avuto un'amica umana ma io non mi fido degli umani però c'è anche il discorso appunto che Optimus Prime come ha detto il Buonaventura sempre il produttore Optimus Prime qui impara a fidarsi degli umani impara ad essere da essere un po' cinico per quello che ha vissuto che ha dovuto vivere dalla fuga di Cybertron e tutto quindi in teoria anche qui a livello di 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 il possibile prequel appunto di film di Michael Bay anche lì ci sta poi ripeto ci sono altri due film in teoria previsti in cui si devono riempire questi slot di cosa potrebbe accadere magari poi alla fine per dire potrebbero rendere invece non canonici l'ultimo film Last Night che è quello che butta su troppa roba alla fine a livello di appunto di Unicron e compagnia ma neanche non penso che vanno tanto lì a a strizzarsi le meningi a spremersi le meningi per cercare di visto come hanno fatto questo film dove non c'è nessun rimando a nulla è tutto molto vago c'è la trama così buttata lì alla buona senza troppi rimandi è successo che i Maximal vengono ad un altro pianeta vengono qui la chiave la spezzano cioè tutto così insomma la trama per far andare avanti gli eventi e basta quindi non è che vanno a dire il discorso che si pensava che Optimus Prime che escorge forse un Optimus Prime di un altro di un altro pianeta di un altro universo appunto alternativo l'Optimus Prime dei film di Michael Bay appunto in modo che questa fosse un'altra continuità stanno andando avanti un po' a braccio un po' come era stato fatto già nei film precedenti di Michael Bay ammettiamolo perché al fine aggiungevano sempre una nuova origine alle trame ai Transformers quindi anche qui un altro un film molto che potrebbe essere sia un stand alone che si può vedere da solo sia qualche rimando alla buona ai film ovviamente già passati ripeto ci sono dei 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 punti gli Autobot sono trattati bene i Maximal potevano essere un po' più farsi potevano mostrare un po' meglio mostrare le modalità robot già all'inizio Air Rager neanche non viene mostrata in modalità robot tra l'altro quindi va bene qualunque modellino di studio serie deluxe normale che vorrete comprare per farvi appunto la squadra dei Maximal del film poi dicevo a livello anche di giocattoli non cioè tutte le gimmie che visse nei giocattoli nella collaborazione fra Maximal e Autobot insomma di Maximal Target Master e robe così alla fine non si vede un cavolo Bumblebee diventa una camara off-road perché sì così alla fine alla fine diventa camara off-road e Optimus Prime non diventa un camion off-road come si vede in alcuni giocattoli ripeto poi ripeto magari sto discorso lo farò ulteriormente secondo video dato che già siamo a 35 minuti quindi non vorrei essere troppo perolissimo ma insomma alla fine dicevo perché volendo c'è tanta roba da parlare ripeto comunque spero di aver toccato abbastanza argomenti in questa introduzione spoiler free e anche poi una esaminata la buona alla trama dicevo alla fine comunque speravo onestamente di mio speravo di vedere qualcosa di più da fan dei Transformers qualche riferimento un po' più puntualizzato su Maximal l'origine di Maximal invece molto la buona molto commerciale potremmo dire proprio a livello di di ciò che porta ci sono vengono dette le cose ma niente di o fanno eventualmente una serie nuova a cartone di matte o uno dei fumetti che poi prendono i spunti e li evolvono meglio tutti i vari spunti appena accennati quindi evolvono meglio il Maximal l'origine di Maximal ripeto scurge i cosi i vari cos'erano anche il freezer e tutto e anche lì adesso torniamo niente devo tornare tutto devo fare un altro video dove parlo proprio di ogni personaggio mi ha fatto la lista di ogni personaggio appunto già oltre a dire qualcosa che ho dovuto dire qui però voglio cercare di dire essere succento ma non ce la faccio Bibo lo sta abbagliando alla porta ma vabbè quindi ripeto un buon film dei Transformers un buon film di un di una basato su una linea di giocattoli ripeto molto molto commerciale a livello di trama è tutto molto abbastanza semplice però però hanno molto spazio anche i robot per fortuna a livello di caratterizzazioni a livello di interazioni fra loro magari Maximal meritavano un po' di più i cattivi sono i cattivi sono lì e basta per fare per fare la parte dei cattivi senza neanche tanto fare chissà quali anche lì motivazioni sono solo dei cattivi che vanno e picchiano tutti vabbè ma comunque ripeto per essere un film tranquillo dei Transformers è guardabile tranquillamente un fan di Transformers può andare a guardarselo così di certo non verrà fuori stomacato si dice stomacato sì avete capito come dopo aver visto i film di Michael Bay ripeto e magari neanche troppo diciamo non dico deluso ma aver visto pochi robot come era stato invece nel film di Bumblebee alla fine quindi diciamo un buon film per un fan di Transformers un buon film da vedere così alla buona niente di super eccezionale ok ripeto però si fa vedere di certo non è un obrobrio di certo non bisogna secondo me andare a rinvangare appunto a riesumare i film di Michael Bay a dire ah forse erano meglio quelli anche no onestamente diciamo anche no questi sono film per giocato di film basati su linee giocato quindi vanno bene ripeto forse un pochino un po' più di di occhio eventualmente invece davvero per le eventuali gimmiche delle linee di giocattoli dato che alla fine l'unica gimmiche effettiva è quella di Mirage che diventa un'exotuta per l'umano ma non c'è traccia di questo di finora nelle linee di giocattoli e il discorso magari potevano fare per dire qualche altro massimo in più che diventavano appunto delle armi tipo target master come si vede nelle linee di giocattoli non l'hanno fatto quindi magari quello sì un po' più di occhio eventualmente per le linee di giocattoli visto che fai un film per vendere i giocattoli cerca di fare in modo che il pubblico che deve comprare questi giocattoli si affezioni venga catturato nel film da questi personaggi e delle loro gimmick visto che stiamo parlando di un film di linee di giocattoli poi per la trama va bene diciamo alla fine non è male tutto nella sua semplicità di essere un film tratto da una linea di giocattoli ribadiamolo ok grazie per aver visto questo video ripeto eventualmente dovrò fare un altro film scusate un altro video esaustivo su tutti i personaggi parlarne meglio dato che ho saltato parecchi appunto anche willjack e tutto carina la sua apparizione ma ne parliamo meglio ripeto un successivo video ancora un po' più esaustivo eventualmente 40 minuti scusate di video di recensione del film comunque grazie per aver visto questo mio video fatemi sapere cosa ne pensate cliccate mi piace come vi detti iscrivetevi al mio canale ma soprattutto andate poi a vedere su vector sigma.it le mie recensioni scritte di Transformers giocattoli ma anche i fumetti dei Transformers e non solo tradotti in italiano e soprattutto un salto su autorobot.it il gruppo facebook dei fan dei Transformers in Italia tante buone cose da vostro Jazz Luca e ci vediamo alla prossima video recensione ciao ciao